Cosa dare al nostro cane come premio? Beh, questa è una domanda che spesso mi sento rivolgere e a questo punto andiamo sul riciclo. Vedete questo pezzo di formaggio? Che ormai è un po' andato a male, certo noi non lo mangeremo, ma è un ottimo premio per il cane e quindi posso tagliare a tocchetti e farne dei ottimi premi. Oppure prendere anche la buccia di parmigiano che in genere si butta e tagliarla a tocchetti, anche quello è un ottimo premio riciclato. Grazie.